buonasera a tutti anche questa sera continuiamo la carrellata di rimedi naturali che possiamo utilizzare per depurare il nostro organismo questa sera parliamo di un rimedio che non è un'essenza floreale ma sono rimedi fitoterapici quindi sapete che quando parliamo di fitoterapia partiamo sempre da parti di pianta e in questo caso di gemme fresche o fiori vorrei pararvi di cinara scolimus che non è altro che la pianta del carciofo il carciofo ha un'azione molto elettiva verso il nostro fegato perché ha un'azione diciamo coleretica e vuol dire che aumenta la produzione della bile e poi la sua eliminazione con la goga nel senso che favorisce l'azione delle cellule epatiche e anche diuretica perché è in grado di fare eliminare le tossine all'inizio diciamo per circa un'oretta dopo la somministrazione viene eliminata solo acqua dopodiché va a lavorare direttamente sull'eliminazione dell'urea quindi i famosi acidi urici che ci fanno problemi di gotta allora il carciofo chi non lo conosce perché lo utilizziamo come alimento sulle tavole ed è proprio il fiore del carciofo che noi andiamo a utilizzare per macerazione e preparare il macerato glicerinato che è quello che andiamo a somministrare il macerato viene somministrato nella dose di 30 gocce due tre volte al giorno ed è molto importante in questo periodo di cambio di stagione eliminare le tossine accumulate perché provate a pensare al nostro orto quando noi prepariamo l'orto per una nuova semina lo puliamo e diciamo favoriamo la ricrescita della nuova semina concimando il nostro terreno pensate a noi come fisico come se fossimo un orto un terreno quindi se dobbiamo incentivare poi il nostro organismo a combattere i malanni dell'inverno e quindi prendere magari delle terapie per far sì che funzionino al 100 per cento dobbiamo essere un orto pulito quindi il consiglio è depuratevi sempre prima di intraprendere qualsiasi terapia potete consigliarvi con il vostro medico o il vostro farmacista di fiducia in maniera da sapere la dose adeguata arrivederci e buona serata grazie a tutti